bella a tutti ragazzi qui è Bioscray che vi parla siamo in un nuovo vlog in questo vlog cercherò di raccontarvi un po' come va il canale un po' che progetti ho e anche di una bella cosa voglio parlarvi della penitenza questa specie di penitenza quindi ho cercato di cambiare qualche cosa cambiare per prima di tutto mentalità perché pensando a una pensione non arriverei mai a una cavolo di penitenza una penitenza bella che si è divertente da fare così quindi io sto cercando di mettermi nei vostri panni perché così almeno cerco di pensare che penitenza mi possa aspettare sperando di trovare l'ispirazione e va bene così poi voglio parlare dell'ospite di Manu, mio cugino lo vedrete in altri video sicuramente cercherò di convincerlo a mettere la webcam perché si vergogna ancora un po' ma cercherò di convincerlo poi ho in mente di portare altri giochi horror sicuramente con altri diversi giochi perché Five Nights at Freddy's 3 è bellissimo fa cagare addosso soprattutto me però siamo lì e è calino lo porterò sicuramente avanti perché c'è la serie horror però cercherò di prendere altri giochi tipo Slenderman, The Grudge tipo questi giochi qua giusto per fare qualche gioco in più e boh anche nei Hunger Games ho detto ci sarà sicuramente anche Manu ma altri miei e sto cercando di portare una serie tipo Skyblock queste survival qua e boh che dirvi spero che questo piccolissimo vlog vi sia piaciuto se si lasciate un bel mi piace qua sotto un commentino un bel consiglio se volete e ciao a tutti